Buongiorno e bentrovati in casa Siae. Oggi abbiamo un appuntamento col caffè con l'autore molto più numeroso del solito, abbiamo qui la storia di Sanremo. Quindi io oggi mi hanno detto di non fare la moderatrice ma la fomentatrice. Non credo di riuscirci, però intanto vi presento i nostri ospiti. Abbiamo Franco Fasano, autore, abbiamo Walter Bacchino, il patron dell'Ariston, e Massimiliano Beneggi, che è l'autore del libro di cui parleremo oggi, che è il libro che parla della storia di Franco Fasano. Un libro, come vedete, piuttosto voluminoso, perché effettivamente di cose da dire ce ne sono proprio tante. Cose che io ho scoperto leggendo questo libro, lo ammetto, perché, come dico sempre quando facciamo il caffè d'autore, effettivamente gli autori li conosciamo veramente poco rispetto agli interpreti, invece qui abbiamo un autore che ha fatto la storia del festival. Franco, a te la parola. Raccontaci la tua prima esperienza al festival di Sanremo. Allora, io prima di raccontarti la mia prima esperienza al festival di Sanremo, ti racconto la mia prima esperienza all'Ariston. avevo quasi 11 anni e mio padre ebbe l'idea di organizzare una sorta di talent dedicato alla creatività dei bambini, degli elementari, che arrivava fino alla prima media. Si era messo in testo di farlo a Sanremo perché lui amava molto la musica e decise di farlo a Sanremo, solo che al casino coi bambini non c'entrava tanto. Allora fece così una ricerca di quale avrebbe potuto essere un teatro adatto a ospitare tante scuole, tante famiglie e così, e identificò il teatro cinema, teatro Ariston di Sanremo. Parlò con un certo Aristide Vacchino, che è il papà di questo signore. Questo signore si chiama Walter Vacchino e voi non vi potete immaginare l'emozione, ma anche la goduria che io sto vivendo in questo momento perché due padri avevano comunque identificato qualcosa che poi andò bene, che si chiamava Jolly d'Oro, e ne parlo nel libro, e sono passati un po' di anni, da quel 72, e ritrovarmi qui a presentare un libro nel quale parlo di quei momenti, avere qui il figlio di Aristide Vacchino, per me è un segno anche di continuità, anche perché è il libro dedicato a mio padre. Grazie, grazie di questo bellissimo ricordo. E quindi a questo punto vorrei lo stesso racconto con gli occhi di Walter Vacchino. Devo dire che la figura di suo padre è una figura che si stagliava nella professionalità, diciamo, di quei momenti perché era una persona diversa, poi racconterai tu della professione di tuo padre. Io lascio semplicemente questo tratto. Aveva sempre la gentilezza, lo sguardo e una professionalità che nella leggerezza del movimento e nel fatto che aveva sempre una calma apparente, però era sempre al momento giusto e prima di tutte quelle persone che si agitavano i suoi colleghi intorno a lui per cogliere un'immagine. Ecco, io dico semplicemente che è un fotografo chi scatta col cuore, ecco, quindi vede con l'occhio ma scatta col cuore. Ovvio che tutto questo al tempo odierno, dove quei telefonini fai mille scatti, poi vedi se ce n'è uno buono, ma non è, diciamo, quello che è il sentimento che può avere una persona, diciamo, rispetto a quello che vuole trattenere di quell'attimo o di quel momento. Quindi io ricordo, diciamo, questo che era proprio una diversità. Di lì, diciamo, il ricordo dei padri. Ecco che io credo che sia tuo padre che mio padre sono persone di poche parole. Parla al presente perché sono qui con noi, ovviamente. E quindi l'intesa, credo che un minuto, un minuto e mezzo, il tempo di spiegare l'idea, perché quando le idee sono importanti e sono forti, non hanno bisogno di tante parole. E credo che, conoscendo mio padre, abbia detto sì, si fa. E quindi la cosa sia stata fatta. Ecco, sono, diciamo, momenti che rappresentano modi di vivere di anni fa, che però dovrebbero essere ricordati perché dovrebbero essere un modo di vivere e, come dicevate prima, l'unicità, ovvero le varie unicità sarebbero tutte molto più vicine, solidali e quindi sarebbe tutto estremamente più facile. Quindi il mio è un ricordo di affetto e, diciamo, un ricordo di affetto e di emozione. Proprio perché di lì si è snodato poi un percorso che è andato dall'immagine al suono e poi con il mago che creava i suoni insieme a delle parole. Quindi tu hai fatto un percorso che però, conoscendoti, la tua musica ha sempre, diciamo, una cornice e un ritratto, cioè tu riesci sempre a dare uno spessore di movimento, di immagine alla tua musica perché ti è rimasto nel DNA l'armonia delle forme, l'amortia della ripresa e l'hai portato, diciamo, in questo altro campo. Quindi tu sei, diciamo, una persona che ha due aspetti. Ecco, quindi c'è la luce e il buio e il silenzio e il rumore. Grazie. Io chiudo. Chiudiamo qui. Bellissimo, questa chiusura. No, ma questo... Ma la cosa incredibile, come ha detto Walter, mio papà era fotografo e a convincermi a fare questo libro non è che ci ha messo tanto. Io ero perplesso più che altro per l'aspetto commerciale, ma non per l'aspetto del mio vissuto. A convincermi è stato un ragazzo laureato in filosofia, 36-37 anni, adesso ve lo dirà lui, non mi ricordo. È presente, è con noi. E comunque lui mi ha detto, no, perché l'ho conosciuto tra l'altro da un post che riguardava io a Zanicchi. Anzi adesso te lo spiega lui, perché il ragazzo di cui sto parlando è lui, Massimiliano Beneggi. Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno Alessandro. Alessandro, Massimiliano, va bene, comunque va bene. Ti aspettavi di trovarti qui oggi con due delle persone, no, una sicuramente, però insomma abbiamo quest'ospite. No, ma guarda, in realtà neanche con Franco, fino a due anni fa mi sarei mai potuto immaginare di poter essere qua veramente con la storia davvero di Sanremo. Com'è nato questo libro, quest'idea? È nato perché, allora, degli autori, come dicevi prima, si parla sempre pochissimo. Lì si sente citare, no, quando vengono presentate le canzoni anche al festival. Di, Fasano, Berlincioni, canta, dirige l'orchestra. Però poi finito quel momento non ci si ricorda mai di chi abbia scritto le canzoni, ci si ricorda sempre dell'interprete che la porta. Solo che l'interprete, giustamente, racconta, può raccontare tutto quello che noi viviamo anche da casa. Può raccontare il successo di una canzone. Ma come è nato quel successo? Che storia ci sia? Questa solo l'autore la può sapere. E allora mi piaceva poter dare voce a tutto questo. Quando ci siamo sentiti, allora, per un'intervista sui cartoni animati, poi se avremo modo parleremo anche delle tantissime sigle che Franco ha fatto per i cartoni animati, devo dire che lì ci siamo davvero incontrati. Perché io sono nato nell'85, quindi ne ho 36 di anni, non ho ancora 37. Io sono nato nell'85. Nel frattempo, Franco... Con Emo e Mo di Peppino Di Capri. Ecco, quindi nel frattempo Franco stava diventando ormai proprio già il grande autore delle canzoni. Da che era il figlio del fotografo iniziava ad essere l'autore e quindi suo padre iniziava ad essere il papà dell'autore. E ne parliamo proprio tanto allora in questo libro. Allora, cosa succede? Che lui inizia a diventare il grande autore di queste canzoni. Poi sono pochissimi, credo, quelli che possono vantare di scrivere dei grandi successi per Sanremo. Lui non ha solo scritto tante canzoni per Sanremo, ma tutte di successo. Per cui dopo sono arrivate, io amo, mi manchi, ti lascerò tutte nell'arco di tre anni. Nel frattempo io cresco, si cresce con la musica, perché la musica ci aiuta a crescere, ci insegna anche, ci educa in tantissime cose. E proprio di questo parliamo. Arriva una cosa particolare, che nel 94 lui diventa padre e incomincia a scrivere le canzoni poi per i bambini. Quindi, nel frattempo diciamo che ci incrociamo, in qualche modo i nostri destini si incrociano lì, sulla Calimero Dance e giù di lì. Perché poi praticamente lui a quel punto fa quasi un percorso a ritroso nella crescita. Cioè, mentre matura come autore, incomincia poi a scrivere per bambini. Adesso poi ne parleremo. Certo. Senti Franco, ma mentre parlava Massimiliano, mi è venuta questa curiosità, che effettivamente dice l'interprete, poi deve in qualche modo interpretare anche le emozioni di chi ascolta. Ma quando un grande interprete ti chiede una canzone, tu hai collaborato con Mina, con chiunque, insomma con Fausto Leale, abbiamo detto la famosa trilogia su cui poi torneremo, eccetera. Ma tu, scrivendo il testo di una canzone, pensi anche all'interprete? Allora, innanzitutto io i primi testi che ho scritto non erano oggettivamente all'altezza delle intuizioni musicali che avevo. Io ero ragazzino, ero rapito. Per esempio il mio punto di riferimento, anche caratteriale, è stato il maestro Enrico Simonetti, che era nato ad Alassio, ne parlo profondamente nel libro, nelle prime pagine. Lo considero uno dei maestri, ma non perché mi ha insegnato la musica, ma perché mi ha indirizzato a un altro grandissimo maestro che ha abitato per anni qui a Sanremo, che è il maestro Pippo Barzizza. E quindi quando tu hai questa fortuna del destino, ti rendi conto, quello che diceva prima lui, che in qualche maniera sei protetto da qualche cosa. E questa protezione evidentemente erano le attenzioni che aveva mio padre, perché tutti questi personaggi li aveva cuciti insieme lui nel mio destino, fino a portarmi da Torino, dove si erano conosciuti con mia mamma, ad Alassio, in Ligure, dove secondo lui poteva essere il luogo giusto per vivere meglio, per la crescita di un bambino. Quindi tutte queste cose le incameri quando scrivi, e io le riuscivo a trasmettere musicalmente. Però la puerilità del testo non aveva né mestiere, né evidentemente era il mio. Poi ho avuto la fortuna di iniziare a collaborare e a essere prodotto da grandissimi firmi della storia della musica italiana. Il primo su tutti fu Luigi Albertelli, che lo conobbi proprio qui a pochi metri. Allora non era un residuo, ma si chiamava Hotel des Etranger, c'era il comandatore Melandri. E noi con la bella età suonavamo per gli aperitivi. E lì arrivavano i grandi autori, arrivavano i produttori, i cantanti veri, qualcuno. Mi ricordo, adesso credo di averlo definito, Albertelli, quando l'ho visto è arrivato in carne, ossa e successi. Perché era l'autore, prima di tutto di Zingara, quella di Iva Zanicchi, che quest'anno tra l'altro è qui al Festival di Sanremo. E poi, perché era l'autore di Drupi, che per me in quel periodo ero ragazzino, addirittura ce l'avevamo in repertorio delle loro canzoni. Quando tu compilavi il bollettino della CIA, mettevi Riccardi perché dovevi mettere il compositore e non l'autore del testo. Così, visto che siamo nel posto giusto, lo diciamo. Per esempio, se voi scrivete i pezzi di Battisti, se scrivete Mogol, vanno a finire nel Calderone. Invece se scrivete, adesso vabbè, Presidente e Mogol. Però se scrivete Battisti siete più corretti, giusto? Eh no, perché mi sono prese. Sì, tra l'altro adesso abbiamo anche una fantastica app per fare tutte queste cose online. Lo dico, visto che ci siamo. Comunque, cosa succede? Cosa succede? Succede che io, Debsa, Cogliati, Berlincioni dopo, ma soprattutto credo che quello che è arrivato, come ha detto prima lui, alla maturità mia, nel momento in cui avevo già iniziato a seguire per bambini, fu incredibile il mio incontro con Bruno Lauzzi. Bruno Lauzzi, per me, quando ero ragazzino non l'avevo considerato tanto, ma se Mogol, Battisti, scelsero lui come cantante delle loro canzoni, un motivo c'è. E vengo alla domanda che mi hai fatto. Ma tu pensi, quando scrivi a chi le canta, io ti posso dire non quello che hanno fatto gli altri, ma quello che ho fatto io. Io non ho mai scritto, mai, tranne per Cristina D'Avena, una canzone, pensando a Fasto Leali, Anna Oxa, Nicola Rigliano, insomma tutti quelli che sono andati qui a Sanremo, nemmeno Drupi, con Regalami un sorriso. Quelle canzoni le volevo cantare io. O comunque, solo che i testi che musicavo, o che comunque poi venivano, non erano adatti a un ragazzino di 20 anni, 21 anni, 22 anni, 30 anni anche delle volte. E quindi ho fatto fatica, forse, a trovare un mio posto artistico nella discografia, perché i pezzi erano più grandi di me. Però tu sei partito sul palco di Sanremo, in realtà. Sì, ma io ti sono partito dal punto di vista compositivo. Lì poi c'è l'apoteosi, perché l'isola di Hawaii, eravamo nel 1981, ritorno dopo nove anni al teatro Ariston, dopo il Jolly d'Oro. Io salgo su quel teatro, anzi mi avevano detto, ma tu vuoi cantare in playback o dal vivo? Perché si poteva cantare in playback, ma figurati, io poi qui ci sono venuto che avevo... Un disegno cantare, è stato un disastro. È stato un disastro, perché quando sali su quel palco ti si azzera la salivazione, ma non solo quella. Perché se perdi dei liquidi di qui, te ne vengono altri, capisci? Non sapevo cosa fare e insomma all'improvviso mi ritrovai catapultato a fare le prove. Ricordo ancora lo sguardo del mio produttore D'Epsa, in prima fila, sotto che mi guardava, che era vicino a un altro produttore. Quando sono sceso ho sentito che l'altro produttore gli ha detto, Fasano, ma lo produci tu? No, ha detto lui. Mi ha rinnegato. Mi ha rinnegato, ma comunque ne ridiamo ancora oggi di questa cosa, è una cosa clamorosa. Però è stato l'anno incredibile delle cose. Io mi ricordo, ci hanno messo un mese a vestirmi e un secondo a rovinarmi. Perché dietro le quinte, Claudio Cecchetto, che quell'anno presentava e debutò con Gioca Giuè, mi vide vestito dietro le quinte e mi disse, ma come sei vestito? E io credo di aver sbagliato qualcosa. Ma l'ho capito alla finale. Andate a cercarlo su tutte le cose. Praticamente avevamo tutte e due lo stesso abito. Cioè uguale. Era un colore particolare, quindi si notava. Solo che io in finale non ci sono arrivato perché c'era De Crescenzo con Ancora. C'era Luca Barbarossa, Loma Spogliata, Fiorella Mannoia, Caffè Nero Volente, Dimmi Mo Cavallo. Ma la cosa che non riesco a capacitarmi è che nel gruppo dei giovani c'era Orietta Berti che cantava La barca non va più. E invece lei non solo va ancora, ma è sulla nave che qui vicino. Esatto, era un pronostico. Era un pronostico. Tra l'altro il pezzo l'aveva scritto Bruno Lauzzi con il maestro Pippo Caruso. Un'altra grande firma, autore di Perché Sanremo è Sanremo. Non dimentichiamoci. Senti Massimiliano, qual era la domanda che proprio non vedevi l'ora di fare quando hai avuto la possibilità di parlare con Franco? Allora, noi abbiamo parlato appunto, dicevo, dei cartoni animati. Perché la rubrica che stavamo curando era proprio quella. Quindi c'era anche un po' di timore da parte mia, perché voglio dire, tu parli con uno che appunto ha scritto per Califana, Rigliano, Mina, tutti questi qua, e poi lì vai a chiedere della Calimero Dance, aspetta un attimo, magari non è che chissà come la prendi. Invece lì mi sono reso conto che per lui parlare di Calimero Dance piuttosto che di Dimmi Manchi era praticamente la stessa cosa dal punto di vista qualitativo. Allora, mi sono reso conto che aveva proprio voglia di parlare di tutto questo. Al che, a quel punto, già in quella telefonata, anche se ancora non si parlava del libro, perché gliene parlai poi qualche settimana dopo, però già lì avevo qualche curiosità effettivamente. E allora volevo proprio capire anche come fosse nato il grande successo di Ti Lascerò, per esempio, che è una di quelle canzoni che, secondo me, come rischia quest'anno quella di Mamou De Blanco, che poi magari dopo qualche settimana non ci ricordiamo più com'è quella originale, perché tutti la cantano nei karaoke e tu te la ricordi solo con le voci mezzo ubriache di quelli. E forse è un testo anche frainteso quello, no? Oltretutto, sì, il titolo effettivamente è fuorviante rispetto a quello che poi ti lascerò. Ti lascerò. Rispetto a quello che poi è il vero contenuto. Per cui, ecco, avevo queste curiosità di sapere come fossero nati i grandi successi che poi appunto sono arrivati successivamente a noi, proprio che sono rimasti nella storia. Ma devo dire la verità, non mi aspettavo di arrivare a 33 capitoli. Eh, no. Non me lo aspettavo proprio, io pensavo parliamo di due o tre cose, parliamo... Invece poi ho scoperto che... È una miniera di ricordi e di aneddoti. Cioè, Talent Scout, due terzi del volo, li ha scoperti. Lui non se ne parla mai di tutto questo, perché lui poi è molto discreto e quindi... Non vorrei che Torpedini si incazzi. No, però, mi piace invece... Però voglio dire, invece, Tony Renis, che in realtà fu lui il primo a vederli insieme in televisione a chiamare Cenci, io non ho scoperto il volo. Io ho incontrato il talento meraviglioso di Ignazio Foschetto in un teatro di Caltanissetta e mi arrivò dalla signora Lidia Basso, che purtroppo non c'è più ufficio stampa dell'Antoniano, un CD di Gianluca Ginoble. E io, quando ho ascoltato queste voci, mi è sembrato che dovessero avere almeno la possibilità di fare un provino per entrare e ti lascio una canzone. Guarda caso, che si è svolta sempre qui al Teatro Aristo. E quella è stata un'altra mia forte emozione. Vabbè, poi dopo te la spiego. Perché, no, perché, guarda, lì c'era un altro ragazzino, si chiama Ernesto Schinella, che aveva... Lui praticamente, Ernesto Schinella, era un bambino che aveva nove anni. Su quel palco ci ha cantato, quasi per sbaglio, e il suo mito era Massimo Ranieri, che era anche il mio mito quando avevo la sua età. E io ero riuscito a portare Schinella lì, su quel palco, e in una delle ultime puntate lui duettò con Massimo Ranieri in Erba di Casa Mia. Tu pensa, non nei fiumi di parole, come direbbero i giallici, ma nei fiumi di lacrime che io... C'è una poltrona rossa che se c'è un rigagno lo sono io. Ecco, questa commozione di Franco è quella che giustifica in realtà proprio anche il titolo del libro. Perché io amo, non è solo il titolo del suo più grande successo, che ricordiamo a distanza di 35 anni, ma è veramente anche la filosofia di vita di Franco e del suo modo di comporre. Come dicevo, non fa differenza tra una canzone per bambini e una per adulti, proprio perché lui ci mette sempre il sentimento. Ogni canzone di Franco ha il sentimento. La si percepisce proprio che la firma è la sua. E è veramente una cosa straordinaria. Per cui questo è il motivo per cui, quando noi abbiamo iniziato a fare questa lunga intervista, perché è stata un'intervista praticamente che poi, da che doveva essere solo l'articolo, è diventato appunto questo libro, però è il motivo per cui ho voluto proprio conservare questo corsivo in cui parla lui, mantenendo anche quelle sue parole, questa sua emozionalità, perché niente avrebbe saputo raccontarlo. Se avessimo formalizzato tutto questo racconto, non sarebbe stata la stessa cosa. È un po' come quando tu suoni la musica nel computer, c'è un sistema attraverso dei software che tu la quantizzi, e quindi diventa tutta a tempo, tutta precisa, ma perde di espressione. È un po' così. La forza di questo libro, che non è un libro vecchio, è un po' lungo, ma non è lungo perché è noioso. È lungo perché, anzi, l'editore, che si chiama Marco Sacco, ma l'ha chiamata di idee, perché voleva farsi la battuta da solo. Sacco di idee. Comunque, tra l'altro sta andando bene. Questo è il suo primo libro che ha pubblicato, ne ha già pubblicati tre, che stanno andando anche molto bene. E tra l'altro ne abbiamo presentato uno anche l'altro ieri. Uno, Bim Bum Bam, che l'ha scritto lui, e l'altro, un altro che l'ha scritto noi. Comunque... L'altro è Nico Donbino. Esatto, sì, sì. L'abbiamo presentato l'altro ieri. Ah, ecco, vedi, vedi. Esatto. Quindi, voglio dire, la cosa forte di questo libro è che se uno non conosce certe canzoni... Per esempio, io ho scritto delle canzoni per Raffaella Carrà, per Loretta Goggi, mi è capitato, Califano, ma anche nomi minori, che magari non hanno poi avuto una carriera più lunga, ma che sono stati musicisti di Eros Ramazzotti. Magari non ce l'hai nelle orecchie quella canzone. Allora ci siamo inventati un modo per accompagnare l'ascoltatore. E devo dire che questa idea io l'ho difesa oltre misura, perché un giorno, i primi di settembre, parlando con Walter, gli avevo fatto leggere il libro in anteprima. Eravamo con un signore, si chiama Cavaliere Alberti, che tra l'altro organizza sempre qui all'Ariston il GEF, che è una cosa molto importante, durante il quale Sanremo Junior mi hanno dato un premio, proprio l'Awards quest'anno per la musica. E Nat ha detto, ma tu sei figlio di un fotografo e non c'è una fotografia nel libro, mi ha detto Walter. E allora gli ho detto, guarda, allora io avevo in mente una cosa, speriamo che mi diano il permesso di farlo, ed è il QR code. Cioè alla fine di ogni capitolo questo libro ha un QR code che tu inquadrandolo hai la possibilità di vedere le foto storiche di mio padre nel tempo, quando io avevo dieci anni, quando io ero insieme anche ad altri artisti, ma soprattutto anche di ascoltare i link regolari, che ci sono in giro su tutto. Sì, perché un libro come questo serve per farci ripetere. Io ti dico, non l'ho letto tutto, tutto, ma quasi tutto, perché ti viene voglia di fermarti continuamente per andare a cercare il video su YouTube di quella esibizione o di quella canzone. Fai tantissimi, rispondi, fai tantissimi riferimenti che è un po' anche la storia di 50 anni in Italia, insomma, alla fine, non è soltanto la storia di un autore, insomma. Quindi adesso ho detto 50 anni, poi perché prima parlavi del 1972, quindi pensavo quest'anno sono proprio 50 anni da quell'episodio che hai evocato all'inizio della presentazione. Ma quindi, lei ha letto questo libro? L'inizio. Ha detto l'inizio. Allora non chiederà niente sul libro, vorrei sapere qual è la canzone di Franco che più la emoziona? Non ti rispondo alla domanda, perché la cosa che mi emoziona di più di Franco è un'altra. È Franco. Sostanzialmente la risposta potrebbe essere questa, però vado più nel preciso. Quando sto con Franco è come che io ritornassi bambino e ho vicino a me la nonna e il nonno che ti racconta una favola. Allora, siccome lui parla di persone, ambienti, che mi sono congeniali sotto l'aspetto di lavoro, riesce a fare un racconto che è un racconto fatto col cuore. Per cui io starei proprio dei pomeriggi ad ascoltarlo, perché ha prima di tutto un tono della voce, che è importantissimo, che entra in sintonia con te e tu viaggi sulle sue parole. E la cosa che stavo pensando proprio relativamente al tuo libro, che questo che sembra grosso invece è un bignami. Nel senso che è un sunto di quello che dovresti sviluppare capitolo per capitolo proprio per dare alla tua storia, e questo diciamo leggendo, anche quelle immagini visive che tu dicevi, anche i suoni, perché era un'opera che sia un po' diversa e che non abbia, come ti avevo detto, mettici il QR code, eccetera, perché il QR code poi è uno stacco. Cioè tu entri in una sintonia leggendo e quindi vivi, nelle sue parole, un'atmosfera. Hai il desiderio, quando ti accende questi ricordi, di vederli, che però se tu sei costretto a staccare, andare, tecnologia, è vero, è vero. Perdi il suo sentimento. E la lettura non riesce più a essere... Per cui mi immaginavo qualche cosa che fosse come l'onda, no? Tu sali e scendi, sali e scendi e vai qui. Quindi dovresti insieme fare un racconto di come si può fare un'opera che partendo da questo... Scusate. Che partendo da questo canovaccio, così lo chiamo, riesca a fare la stesura della tua vita sostanzialmente, che è incrociata con la vita di centinaia di persone. Cioè il problema è che tu sei stata l'anima, diciamo, di tantissime altre emozioni. La tua emozione ha scoccato, ha creato qualcosa. Questa, improprio, l'hai fatta tu, ma tanto l'hai dato ad altri che l'hanno portata ad altri. e quindi questa catena è aumentata. E soprattutto la seconda cosa che volevo dire, che è un valore e una colpa. Questa tua modestia, in questo momento in cui appare tutto quello che non c'è, ecco, quindi diciamo, quindi questo è sostanzialmente la nostra vita, tu hai e non appari. Allora, se una persona chiede a un giovane, io penso che non tutti sappiano chi è Franco Fasano. E questo è veramente, da una parte, un peccato, perché tu hai valori e hai cose che devono essere conosciute. Quindi, dividi la tua attività, tra virgolette, professionale in una parte creativa, perché quello è sempre il tuo stimolo e vai dove ti porta il cuore. E un'altra parte creativa di ridare maggior vita e comunicare tutto quello che hai fatto con quelle che sono, tra virgolette, la dico male, i mezzi, le tecnologie di adesso, per andare a contattare, entrare in sintonia con le persone giovani. Perché tu hai la possibilità di essere nel loro spirito, perché avendo fatto il percorso e essendo arrivato adesso, quando dicevi, alla musica dei ragazzi, ecco, lì si rinasce, faccio un altro esempio, di due persone che sono cambiate e mi avevano stupito. Uno, ma il buongiorno, che avevo visto sempre dall'esterno, non conoscendolo, diciamo, come un professionista, perfetto, negli ultimi anni della sua vita. Evidentemente, ha cambiato registro e con Fiorello si è messo in gioco e ha cominciato a fare delle cose che erano incredibili per chi aveva vissuto il primo Mike. Ecco, il vero Mike è il secondo, non è il primo, ecco quindi. Stessa cosa a Amadeus, se voi vedete come si è cambiato lui, nelle conferenze stampa di tre anni fa e le conferenze, oggi svela il suo lato umano che attraverso la professionalità crea qualcosa. Ecco, ci sei te adesso, che tu sei nella Trinità, ecco quindi c'è, ecco quindi c'è, questi sono gli esempi, devi riuscire, siccome ce l'hai tutte, però ti devi dedicare a te stesso. Tu, alla mattina, queste non sono parole mie, ma di una nostra amica legion d'onore francese, rumena, quindi una dottoressa rumena che ha preso una legion francese in Francia, quindi, che al mattino ti dice, guarda, la prima cosa che tu devi fare è andare in bagno, guardi allo specchio e vedi una persona, dici, io devo voler bene a questa persona, la devo fare felice, fatti felice. Ma io sono più di Gimondi, nel senso che, voi Gimondi, devo dire questa, questa cosa che tu mi dici, devo dire che spesso, almeno nella prima parte della mia vita, non è di pesa soltanto dalla mia volontà, ma tu sai benissimo che quando uno ha un produttore molto forte, ha un editore molto forte, questa cosa ti spingono anche quando magari non sei tanto preparato, anzi, una volta quando ti spingevano, ti spingevano solo se eri preparato, se no i produttori forti e gli editori forti non ti spingono. Io ho avuto la fortuna di avere Antonio Marrapodi, di cui parlo molto, è un nome che non fa scalpore, perché non è famoso, eppure tanti come me devono molto a lui per la serietà e soprattutto anche per l'importanza della tutela. Adesso noi siamo qua non per vendere un libro, ma per raccontare il motivo per cui una passione si trasforma in una professione e questo è importantissimo secondo me. E quando tu mi dici fatti felice, io ti devo dire che soprattutto da quando poi è nata la mia seconda figlia, a distanza di dieci anni dal primo, io quello specchio è sempre acceso, perché secondo me hai la sensazione che la cosa continui. La cosa strana è che mi è capitato, succede che sono due figli unici, uno iper milanese e l'altra iper romana, fortunatamente vanno d'accordo, però mio figlio è un grande artista, adesso è incazzato nero perché lui è stato ospite di Sanremo qualche anno fa pianisticamente, quindi tu immagina Pippo Balestrieri che è il direttore di palco di Sanremo che era amico di mio padre e quasi quasi ha cominciato a lavorare con la vera grazie a mio papà e diventato ancora oggi con i cinque o sei direttori artistici che ci sono stati in questi tanti anni e ancora lì adesso a lavorarci e ha visto me crescere e poi si è ritrovato come ospite qualche anno fa Emanuele Fasano che ha suonato un pezzo al pianoforte tra l'altro in questi giorni esce proprio è uscito proprio un suo video che aprirà un album che abbiamo girato nel mare di Alassio ma la cosa che mi fa impazzire a me a proposito dello specchio che dice è che su quella barca dove lui ha suonato realmente il pianoforte era un pianoforte vero e questo pianoforte vero era dei primi del novecento lo stavano buttando via ma quando io ho scoperto che su quel pianoforte ci aveva studiato Enrico Simonetti ho detto questo è un segno del destino e quindi quel video che si intitola note in tempesta questo per farti capire che lui è incazzato nero quel pianoforte che vedete è il pianoforte dove probabilmente Enrico Simonetti ha mosso i suoi primi passi e tutto tutto torna esatto tutte queste coincidenze incredibili io volevo ritornare perché noi stiamo parlando adesso stiamo facendo tanti nomi stiamo raccontando delle storie però è vero come diceva prima Walter Bacchino che effettivamente non tutte le persone che ci ascoltano sanno poi di fatto chi sei tu quali sono quelle canzoni che tutti conosciamo e che non sappiamo quelle scritte Franco Fasano quello se lo dice lui che è l'audio infinità come fai a parlare anche perché effettivamente poi faresti sempre un torto ad alcune canzoni per cui ecco scendiamo una linea effettivamente quelle di cui parlavamo prima di Sanremo ecco c'è una canzone forse abbiamo sbagliato prima quando dicevamo che tutte le canzoni le hai sempre scritte per te ce n'è qualcuna in effetti che fa eccezione sto pensando a un'altra canzone che poi è stata presentata qua all'Ariston nel 2005 e cioè colpevole la cosa curiosa è che quella stava finendo in un altro album storico peraltro della musica italiana sì diciamo che c'è stato un momento in cui e tu devi sapere che io quando scrivo le canzoni non è importante non ce l'ho questa questa specie di appropriarmi di quello che potrebbe essere la rendicontazione del successo di una canzone mi posso permettere di parlare con questi termini perché siamo qui e quindi per me il diritto d'autore è un premio a quello che tu fai non è una cosa che tu fai perché o sei bravo o perché pretendi o perché hai delle conoscenze tu ti credo anche allo zecchino d'oro molti pensano che uno perché io dal 94 tranne un paio d'anni sono sempre presente non perché ormai mi conoscono tutti lì anche perché lì le canzoni le scegliono tranne quelle che ultimamente invitano ma lo scrivono sul regolamento perché evidentemente quello che tu scrivi interessa a chi sceglie questo è importante hai capito quindi ma la scelta più importante la fa il pubblico perché queste canzoni che sono diventate veramente pietre miliari della venite venite sta passando Marco Fallagiani con Rovelli allora no volevo salutare perché come allora no quello che volevo dire io è che ci sono cosa stavo dicendo dobbiamo dire per chi stavi componendo colpevole io veramente volevo i titoli più famosi però vabbè ti avete ignorato stiamo parlando di colpevole sì sì ma ci arrivi come dice Zanetti io apro parecchie parentesi tra l'altro Zanetti ha fatto la prefazione quello che io stavo dicendo che me lo sono dimenticato ma non è importante rendi contazione ecco quando tu scrivi una canzone non lo fai per quello lo fai perché ti rappresenta e ci sono delle persone con le quali tu collabori che continuano a rappresentarti meglio di come avresti fatto da solo a me è capitato nella vita di collaborare con tantissimi qualche canzone l'ho scritta anche da solo ma sono sono nate più dalla condivisione di un pensiero artistico per esempio tu non potrai mai immaginare che una canzone come colpevole guarda qui c'è la tastiera no io adesso premio della critica nel 2006 l'abbiamo messa per sicurezza questa tastiera l'abbiamo messa per sicurezza ma non doveva essere perché cosa mi interessava di più era raccontare il libro no però questa canzone qua che è colpevole quella che diceva lui che vinse il premio Mia Martini nel 2005 cantato dal grande Nicola Regliano che fa così colpevole di averti incontrata non so neanch'io perché colpevole di un palpito che mi ha toccato nel profondo colpevole di averci provato con quello sguardo in più colpevole o debole per non averti ancora qui e poi ma perché questa vita insomma va avanti no allora questa canzone è stata scritta da me da Grottoli e da Vaschetti che siamo gli stessi autori che hanno scritto questa canzone è un turbo a quattro zampe ma il motore non ce l'ha e quando fa un po' freddo non si muove dal garage fai 30 con un litro da aranciata sai perché è il meglio dei camelli catalitici che c'è ma che modello è ma che modello è è il catalicamello più ecologico che c'è e poi la sapete perché va avanti anzi vieni a Gianfranco perché Gianfranco Grottoli è qui accomodati lui è venuto a trovarmi sono una gobba sono una gobba del catalicamello siamo in tre e siamo colpevoli però insomma grazie a colpevole ci siamo avvicinati anche noi alla grande musica italiana che passa dall'Ariston quindi abbiamo avuto l'onore di vivere una settimana fantastica quell'anno lì con Vaschetti e poi il premio della critica è stata una ciliegina sulla torta e insomma è un sogno di tutti gli autori arrivare a Sarema e non è capitato e grazie a Franco insomma quindi noi continuiamo a creare e speriamo in futuro ti devo raccontare Paola questa cosa che fa troppo ridere quando io sono andato a proporre questa canzone al maestro Arigliano pugliese come mio papà mi sembrava di sentire parlare mio nonno con lo stesso accento della provincia di Lecce e lui non mi conosceva però sono entrato invece i musicisti mi conoscevano tutti c'era Egli Otatti a Scolese c'era Vannucchi Antonello Vannucchi grandissimo pianista che è stato il pianista della RAI è venuto spesso qui nell'orchestra di Sarema allora sono entrato nello studio e Nicola mi ha detto e tu chi sei ma tu chi sei allora il fonico gli ha detto maestro lui è Fasano ah Fasano dice provincia di Brindisi esatto comunque questa canzone stava per finire nell'album Mina Celentano esatto quindi alla domanda quali sono le canzoni più famose effettivamente c'è tutto un percorso che va da una sporca poesia per Fiordaliso Regalami un sorriso Emo Emo le tre più importanti di Leale di cui parlavamo prima per cui è un grandissimo percorso di canzoni che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo Ti voglio senza amore ha avuto anche quella una storia molto particolare per il Festival di Sanremo nel 2009 e anche quella addirittura era nel 92 che poteva essere utilizzata e poi invece le canzoni ebbe una storia diversa però una cosa che va detta adesso è che grazie a questo libro tu devi sapere che il libro è stato anche letto da persone di cui mi fidavo prima di pubblicare la prima volta e allora io avendo avuto il privilegio di collaborare con un professore che si chiama Emilio Di Stefano con il quale avevo scritto la mia prima canzone dello Zecchino d'Oro per dire no? e questo signore professore Emilio Di Stefano legge soprattutto anche il suo ma soprattutto il mio corsivo e si non dico innamora perché non è nel suo stile lui non andrebbe mai a cantare certe canzoni però si affeziona diciamo così alla figura di Italo Ianne che con me ha scritto anche altre canzoni e io amo e Pasqua scorsa mi manda una canzone e mi dice guarda fargliela ascoltare io non sapevo che era lui perché ho scritto questa canzone qualche anno fa secondo me lui non si ricorda nemmeno di averla scritta ebbene questa canzone che mi ha mandato che io ho poi girato a Italo Ianne e la canzone che quest'anno sta cantando al festival di Sanremo Iva Voglio amarti infatti stavo per dire quest'anno è anche come autore Italo Ianne Italo Ianne e Emilio Di Stefano che è l'autore di questa canzone è incredibile però è una roba già per questo ha senso avere fatto questo libro per cui abbiamo la possibilità di fare un continuo adesso lancio una provocazione che segue una richiesta che tu hai dato e il patrocinatore deve essere ovviamente sia io sono solo una rappresentante aspettiamo che arrivi anche il direttore generale aspettiamo tutti qui e tu mi avevi parlato di fare un concerto all'Ariston poi hai detto passiamo diciamo e vediamo un attimo questo periodo difficile allora mi piacerebbe proprio perché tu hai queste più anime ecco quindi c'è l'animo della giovinezza l'animo della giovinezza scusate sono l'animo della giovinezza l'animo delle canzoni che sono interpretate non da te quelle interpretate da te e creare una serata che abbia poi un suo svolgimento proprio con tutta questa serie di tasselli e che deve essere vista non dico in prima serata però questo discorso di streaming quanto meno una diffusione che sia anche alternativa quindi radio streaming prima che di arrivare in prima serata sarebbe una bella cosa per tutti perché tu riesci a mettere insieme tante pagine di successi tante anime diverse e soprattutto battiti di cuori che sono diversi il cuore di un bambino batte in una maniera quello di un vecchio batte l'importante è che battano quindi questo è il e diciamo questa questa frequenza queste diverse frequenze le vedo già sul palco del teatro che prendono vita pensaci noi siamo come diceva noi siamo a disposizione bel fiore per iglesias pensaci pensaci no ma sono sono sicuramente cose che poi dopo devono fare il paglio con tante altre decisioni la notorietà io mi ricordo che uno dei direttori artistici molto importanti che tra l'altro collaborano ancora adesso noi lo citiamo anche nel libro Gianmarco Mazzi un anno ero convintissimo di avere una canzone che nessuno più di me avrebbe potuto cantare a quel festival non perché io sia famoso ma perché ci mettevo il vissuto no e lui ed è per quello che lo stimo mi disse guarda questa potrebbe essere una canzone ma il nostro festival noi dobbiamo pensare anche e soprattutto a fare la televisione e allora io lì non è che mi sono ritirato con la coda tra le gambe ho cercato una strada che potesse dare forza a quella canzone non l'ho trovata poi il destino ha voluto e ne parlo nel libro non ho voglia di parlare né di chi sono i cantanti eccetera la cosa importante è che questa canzone in un primo tempo mi ha allontanato da quell'ortista perché non aveva percepito che il mio non volergliela dare non era legato a non considerarlo all'altezza ma era una cosa troppo mia purtroppo il risultato è stato questo questo artista quella canzone non ce l'ha più in repertorio e invece io quando continuo a fare i miei concetti in giro anche se non è famosa come le altre quando canto questa canzone la gente si alza in piedi e mi applaude quasi come hanno applaudito ieri Iva Zanichi no 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 scusa no 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 volevo appunto dire che la cosa bella è davvero che poi ci sono tante canzoni anche nascoste per cui poi ci si ritrova ciascuno di noi ha almeno una canzone che ha cantato di Franco Fasano e magari non sa che fosse sua la cosa bella è che davvero poi nelle canzoni ci si ritrova e quindi le canzoni parlano di noi ma in prima persona ovviamente dell'artista in questo caso la canzone a cui fa riferimento è del Sanremo del 2009 quindi ciascuno poi ha avuto possibilità di ritrovarci vuoi da figlio vuoi da padre magari in quella circostanza la cosa veramente secondo me stupenda è che in tutte queste canzoni c'è una linea melodica che va avanti ormai da 40 anni di carriera di Franco che fa capire come la musica comunque sia sempre quella cosa lì quella quella cosa che non non si allontana dalla società pur nei cambiamenti epocali e sociali che ci sono noi facciamo riferimento proprio a questo infatti nella narrazione del libro cioè cambiano tante cose si è passati dal giradischi all'MP4 eppure la musica va oltre la tecnologia va oltre l'autotune va oltre le tante polemiche e anche se vogliamo quello che è appunto lo spettacolo di Sanremo perché poi la musica ci fa andare oltre comunque al di là delle polemiche al di là di tanto show noi quello che poi ricorderemo di questo Sanremo 2022 saranno sempre le canzoni ancora dopo tanto tempo per cui questo credo che fosse bello che lo raccontasse effettivamente un autore ecco perché quali saranno le canzoni che resteranno di questo Sanremo io posso dire che questo dipenderà anche molto dalla insomma da quello che sentiremo in giro adesso sembra strano ma questo fatto che abbiano chiuso il mondo dove tu andavi quando meno te lo aspettavi partiva una canzone che avevi sentito tre anni prima Sanremo due anni prima magari lo stesso Sanremo io posso dirti che fra tutte le canzoni che ho sentito quest'anno ma non perché l'hanno scritta due miei amici io credo che la canzone di Iva Zanicchi sia una delle prime che metteranno in repertorio le orchestre quelli che suonano quelli che suonano nelle sale da ballo perché c'è una signora femmina che canta una bella canzone dall'inizio alla fine e trasmette un sentimento la canzone che cantano Blanco e Mahmoud che a me piace tantissimo tra l'altro ho visto un articolo poi dopo te lo giro mi hanno mandato stamattina un articolo che la paragonano a Ti lascerò e allora la cosa mi ha fatto ridere perché è imparagonabile perché Ti lascerò non è mai nata come duetto è stata una canzone che ha risolto un problema perché lì ha messo insieme due voci soliste che hanno cantato metà canzone per uno quindi non è un duetto invece Mahmoud e Blanco hanno cantato insieme tra l'altro in maniera meravigliosa romantica direi una canzone che va oltre il fatto che siano due uomini o un uomo o una donna è proprio bella la canzone ha un testo bellissimo perfetto su quella cosa poi se c'è tempo volevo fare una riflessione sul titolo però la cosa che mi ha colpito di quella canzone è l'immediatezza dell'emozione mentre l'ascolti Elisa è un'altra di quelle che ha fatto questo tipo di ricerca Ranieri lo ha fatto un po' più teatrale che diciamo così non voglio usare la parola radiofonica ma lui non ha bisogno di assolutamente niente ma da sempre anche perdere l'amore non è stato un successo radiofonico è stato un successo nei piano bar negli spettacoli dal vivo è stata una canzone incredibile ma anche credetemi io amo è stato un grande successo ovunque ma anche mi manchi non è stato un successo radiofonico subito nel tempo la gente si è identificata in quella storia e quando voleva cantare una canzone cantava mi manchi nei piano bar uno tra questi pianisti che l'aveva messo in repertorio è stato Bocelli quando faceva piano bar e grazie a Tony Renis quando decisero di prendere le perle di un certo periodo della musica italiana fortunatamente scelsero mi manchi infatti è entrata in un disco che si chiama Amore per mia fortuna di Berlincione ed è ricordata più di altre canzoni che sono arrivate sul podio quell'anno sì ma quindi voglio dire per esempio lui lo sa la domanda non è chi vince chi rimarrà per esempio devo dirti quando tu ascolti una cosa al primo botto tu sei condizionato non solo da non sapere la canzone ma sei condizionato anche dal fatto del successo che quell'artista ha cantato prima quando era venuta anni prima quindi Ranieri è chiaro che quando sale sul palco uno lo paragona subito a perdere l'amore Morandi quando sale sul palco lo paragona subito si può dare di più e invece secondo me hanno portato le loro il vestito per come sono oggi loro cioè Morandi Ranieri e Zanicchi non hanno bisogno di di farsi conoscere io ho bisogno di farmi conoscere per quello che dicevano ma per dirti quindi mi ha divertito il giochino di Donatella Rettore con questa cosa che mi ha ricordato a tratti anche altre canzoni però sono quelle canzoni che sparigliano non sono quelle canzoni che piacciono molto alla stampa perché quando partono quello si mettono a ballare in sala stampa i giornalisti però non lo so se quella sarà una delle sarà una di quelle canzoni che muove il festival vedrai che a Domenica Inn sarà una delle canzoni che darà allegria molto televisiva molto attuale poi Donatella è sempre stata una grande artista intelligente e lei canta anche molto bene Il dito nella piaga si chiama pensa che io conosco uno che si chiama Deleterio è un successo pazzesco ed è un produttore usano questi nomi strani bene io continuerei per ora ad ascoltare i vostri aneddoti e le vostre storie però temo che dobbiamo salutarci allora scegliela tu una canzone come sigla non c'è una sigla qui all'inizio io tra l'altro quando me l'hai detto ho già trovato il jingle come sigla della Sia e poi dopo glielo diciamo a chi di dove non adesso però se non lo pubblichiamo io invece ho trovato il titolo del tuo spettacolo io amo e tu? ah vedi allora io apro il libro a caso vediamo se mi capita una canzone dai speriamo che non sia una alta no no però che cosa dice questo scelgo io no no ma che cosa è che è uscito ma scusami noi siamo tutti qui grazie a lui noi siamo tutti così penso che un sogno così non ritorni mai più mi ripingevo le mani e la faccia di blu poi all'improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a volare nel cielo infinito voi la sapete nel libro parlo di una canzone che avrebbe dovuto cantare Modugno che ho scritto sempre insieme a Italo Ianne l'uomo dei palloncini per dirti però non possiamo non ricordare Modugno anzi una volta forse magari lui si è pure arrabbiato una volta ho fatto una dichiarazione non mi ricordo in che contesto forse eravamo al premio Bruno Lauzi e ho detto secondo me quando c'è il festival di Sanremo magari la serata delle cover per quella sera dovrebbero dire dal teatro al resto di Sanremo Domenico Modugno vi trasmettiamolo come a Sanremo vedi che hanno fatto lo stadio Maradona lo stadio Meazza a Napoli io subito lui milanese a puntualizzare capito io credo io credo che hai fatto bene ad aprire la casa e non è un caso se hai aperto a casa lì andava detto andava detto allora grazie a tutti quanti di essere stati qui con noi grazie a voi e noi ci vediamo domani avremo domani con noi invece il maestro Lavezzi che con Luca Pollini ci parleranno di E la vita busso e anche qui un grande autore ci farà ascoltare anche alcuni dei suoi successi quindi domani alle due e mezza tutti collegati e vi aspettiamo grazie ciao ciao grazie a tutti